In pratica il fine settimana di sosta, che è diventato semilavorativo per così dire, si concentrerà quasi tutto domani, fatta eccezione soltanto per Campobasso Recanatese. Mentre Agnone Pineto, recupero inizialmente stabilito per domenica, è stato rimandato al 24 marzo prossimo, sempre per la situazione contagi nel Pineto. Si tratta del nono rinvio per gli abruzzesi. La notizia del giorno del recupero è apparsa sulla pagina Instagram della società, unitamente a quella dell'ingaggio dell'attaccante ex-isernier notaresco Giacomo Romano. Contestualmente il Pineto ha voluto rivolgere un agurio di pronta guarigione al suo tesserato Fioretti, che proprio ieri è stato operato al crociato. La situazione del Pineto rimane critica. Inoltre va detto che avevano ottenuto l'anticipo anche Castelfidardo-Fiugi, oggi alle 12 questa gara è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi. Mentre c'è un rinvio del rinvio, cioè Porto Sant'Elpidio-Olimpia-Agnonese, per persistenti contagi nelle fila marchigiane. Ad oggi Pineto e Sant'Elpidio sono le società che soffrono questa problematica. Certo è che fra rinvii Covid e per maltempo non è semplice rifare il punto della situazione sui match da disputare. Il Campobasso è pronto a giocare la sua ventesima partita. La Recanatese arriva a Selvapiano non nelle migliori condizioni. Per i marchigiani, una delle squadre più penalizzate da rinvii sarà di contro la diciassettesima gara. Il computo ovviamente è sullo 21 da calendario. I due tecnici rosso-blu lavorano su più fronti, non solo quello di preparazione al match, ma anche quello relativo al mercato. La prossima settimana arriverà un nuovo portiere per il ruolo di secondo. De Angelis conferma varie trattative e non poche difficoltà a reperire un esterno classe 2002, merce rara, al mese di marzo inoltrato. La società è orientata ad un portiere siander, ma non del 2002. Una classe di età non troppo fortunata per Cudini, gravemente infortunati sia caricati che piga, mentre lo stesso De Biase, da poco in rosso-blu, è reduce da un lungo periodo di inattività e sta accusando dei fastidi muscolari. L'Olimpia nionese starà ai box soltanto per qualche giorno. Il confronto con i marchigiani del Porto Sant'Elpidio è stato rimandato a mercoledì 17 insieme ad altri recuperi del girone. Va detto che sia Granata che gli elpidienzi versano in una crisi di risultati atipica rispetto agli ultimi anni. Già il confronto con lo scorso campionato è abbastanza eloquente. Dopo 21 giornate, l'ultima della classe di un anno fa era la Iesina a quota 12 punti, ora le ultime due ne hanno appena tre. Inoltre, un anno fa agonistico, gli altomolisani avevano ben 30 punti e la salvezza quasi in cassaforte. Va detto altresì che dopo un breve periodo di separazione di qualche settimana, si sono ricomposte le strade dell'Olimpia nionese e di Mariolandi. Il portiere avellinese è tornato in Alto Molise e da qualche giorno ha ripreso gli allenamenti con la squadra. Dopo la nona sconfitta consecutiva giunta mercoledì contro il Montegiorgio, il Riete ha deciso di esonerare il tecnico Stefano Campolo, ancora ignoto il nome del suo successore. Mentre si conosce quello del Porto Sant'Elpidio che dopo l'esonero di Mister 13 ha chiamato in panchina l'ex vastese Ottavio Palladini.